Sono arroganti, non hanno dignità, non riconoscono la legge, sono troppi, attento, tu potresti essere uno di loro. Scusa Rosario, devo fare una cosa, è questo il secchino della carta? È questo, brava, brava, bravissima! Scusa, guardi che ha combinato? E comunque sì, cioè, questa velocità mica è tanto facile. Vabbè, ma adesso chi è che ripulisce tutto? Ma scusa, ma tu abiti qua? Sì. E vabbè, ma rimboccate le maniche e fallo te, ma che aspetti che lo fa qualcun altro al posto tuo? Ma quando c'è noce, lo ho! Ma quanto è questo?